Mamma in Rete raggiunge un altro traguardo da ben otto anni, infatti opera all'interno della parrocchia di San Luca, aiutando numerose famiglie in difficoltà. La realtà di Mamma in Rete permette di accompagnare infatti le future mamme che ne hanno necessità dagli ultimi mesi di gravidanza ai primi anni di vita dei loro figli, preparando addirittura il borsone per la sala parto e donando tutto l'occorrente per i bambini dal vestiario agli alimenti. I numeri parlano ma i nostri festeggiamenti non sono i festeggiamenti, direbbe qualcuno di questo mondo, sono i festeggiamenti che abbiamo veramente creato una bellissima rete con tutte le parrocchie, le associazioni, non solo di Caltanissetta ma anche fuori di Caltanissetta, per portare serenità e aiuto a tutte le mamme che chiedono il nostro aiuto, tutte le mamme che bussano, tutte le mamme che andiamo conoscendo. E quindi sono otto anni di paradiso perché è veramente una gioia incontrare le mamme, incoraggiarle ed è una gioia anche che le mamme fanno questo servizio insieme ai papà, insieme alla parrocchia e con l'aiutare le famiglie in difficoltà. Si pensa anche ai bambini ucraini organizzando una raccolta alimentare coinvolgendo alcuni supermercati cittadini sabato 2 aprile. Ognuno si sta muovendo in base alla propria vocazione, diremmo noi, c'è chi già è partito, la Caritas stiamo facendo la raccolta fondi come parrocchia, come diocesi, insieme alla Caritas nazionale. Noi come parrocchia abbiamo fatto la scelta di incentivare la spesa qui nei nostri magazzini di mamme in rete. Il 2 aprile infatti avremo la raccolta in alcuni supermercati che sempre ci danno la disponibilità con tanti volontari. Ecco perché noi vogliamo aiutare tutte quelle mamme che arrivano qui anche dall'Ucraina e che ne hanno di bisogno già. Abbiamo iniziato perché siamo in rete con le associazioni che accolgono, con la Caritas e quindi già alcune mamme le abbiamo aiutate. Ecco riempendo la macchina andandosene con tanta gioia. Anche perché alcune famiglie di San Luca hanno ospitato e qua abbiamo una bellissima icona originale ortodossa della Vergine Odigitia davanti alla quale le mamme che arrivano perché la maggior parte sono donne con bambini, si emozionano perché dicono questa è la nostra madonnina, la nostra icona e qui già alcune mamme con i figli hanno pregato. E vogliamo sempre accompagnarli perché il termine vergine Odigitia significa madre del buon cammino sia per i siciliani sparsi nel mondo ma anche per questi ucraini che vengono qui, ecco che la madonnina accompagni tutti. Intanto proseguono i lavori di costruzione della nuova chiesa di San Luca che ospiterà un grande oratorio per accogliere soprattutto i giovani e svolgere diverse attività. Noi siamo in possibilità di fare tante altre attività, compreso non possiamo organizzare il Grest perché stiamo costruendo la chiesa e quindi però tutte le celebrazioni che possiamo fare lo facciamo con tanto amore. Ripeto, non possiamo fare tanto di più perché abbiamo questo sogno che si va realizzando che è la chiesa ma una volta costruita la chiesa avremo modo di recuperare tutto il tempo che stiamo perdendo a causa della pandemia e a causa dei lavori perché faremo un oratorio chiamato già da ora, questo ve lo posso dire, Gioia Park, ecco perché ogni giorno sarà aperto per la gioia dei piccoli e dei grandi perché è bello stare insieme e la pandemia ci ha tolto questo aspetto bellissimo che è la comunione.